Madame Rabiot, si può accomodare anche fuori dalla continassa, il tempo è scaduto, la Juventus si vira tutto su Thuram. Ben ritrovati amici bianconeri, un saluto dal vostro BJ. Andremo ad approfondire bene quello che sta succedendo, la Juve ci ha fatto capire sia la mammina di Rabiot che Rabiot, non siamo più interessati ai vostri dispetti, noi puntiamo tutto su Thuram. Iscrivetevi al canale perché è totalmente gratuito, sono sempre qui per difendere la Juventus e anche dalle mammine un po' dispettose come la mamma di Rabiot che va cercando sempre soldini. E noi invece di dargli soldini, sa cosa gli diamo? Gli apriamo il portone della continassa e si accomodi perché il figlio del nostro Lilian è già pronto a prendere il suo posto. Poi lasciate un like, commentate e attivate la campanellina così non vi perderete mai un video e stiamo sempre. Live, le esigenze, madame e messie, e signore e signore, i miei signori, quelli veri e quelli, i gobbi bianconieri della vecchia signora. Rieccoci qui, un giorno sì, un giorno. La Juve già a gennaio aveva detto a Rabiot di rinnovare, ma il signor Rabiot, ti dico la mia, cioè io voglio essere onesto, giusto? Io sono qui non per darvi la notizia, perché ragazzi, di notizie sul web ce ne sono tante. Io le notizie le faccio dare ai giornalisti professionisti, ci mancherebbe altro, io poi voglio commentare, poi io faccio uscire il tifoso che c'è in me. Il tifoso che c'è in me cosa racconta? Fa raccontare che io di Rabiot non ne ho bisogno, perché nel momento in cui la Juve a gennaio ti propone un rinnovo, e tu fai orecchia da mercante e dici, sì, vedremo a fine stagione, come finirà, vediamo. Devo chiedere alla mamma, devo chiedere alla mamma. Allora, già quando un giocatore professionista di quasi 30 anni deve chiedere alla mammina cosa deve fare e ti trovi e giochi alla Juventus che per di più, ti nomina vicecapitano, nel futuro sarai il capitano, ti rinnova il contratto a 7.5 con dei vari bonus che scattano facilmente e tu arrivi fino a giugno dove c'è un europeo di mezzo e la Juve ti dice cosa fare e tu rispondi ma sai, aspettiamo che finisce magari l'europeo, poi vediamo cosa dice mammina e lui cosa fa il rabbio? Dice mammina ma cosa facciamo? E la mamma di rabbio dice cosa facciamo? Facciamo scadere il contratto, così arriviamo fino al 30 giugno. Il contratto scade, tu sei svincolato, la Juve ti riprende e io mi riprendo altri 20 milioni di commissioni. Spero che sono stato chiaro, spero che sono stato chiaro, ma la verità è questa. La mamma di rabbio punta a far scadere il contratto, rabbio se ne va a zero e ufficialmente poi uno svingolato. La Juve se lo vuole riprendere, la Juve sta prendendo un giocatore che è svingolato, che non ha più niente a che vedere con la Juventus, ciò vuol dire che la mamma di rabbio cosa gli dice alla Juve? Vorrete mio figlio? Bene, pagate 20 milioni di euro di commissione, vuole 20 milioni di euro di commissione. Saranno 15, ma anche che sarà un milione di euro di commissione, ma se tu stai giocando attualmente alla Juve e io, Juventus, ti propongo il rinnovo a 7.5, ma tu mi stai prendendo in giro allora? Tu a me mi fai dispetti, perché se tu vuoi, poi la commissione è come se la Juve lo sta riacquistando per la terza volta. Eh ragazzi miei, non c'è più il signor Paratici dalla penna veloce che ti firma il contratto, eh no? Non c'è più Cherubini, non c'è più Marotta. Oggi c'è un signore che si chiama Cristiano Giundoli. Sapete cosa fa Cristiano Giundoli? Gli apre il portone e li caccia via. E gli dice alla mamma di rabbio, ora vedi se c'è in Europa un top club che ti fa un contratto a 8 milioni di euro a tuo figlio. Se c'è, venga e venga, noi siamo felici per rabbio, ma se non c'è, che poi non fa la fine di Dybala, che si accomoda alla Roma con tutto il rispetto, e ti vai a giocare ogni anno l'Europa League. Perché la Juve è vero che non è che vince la Champions, ma ogni anno si lotta per lo scudetto, lotti per la Champions League, e poi non la vince un altro paio di maniche. Io voglio vedere Real Madrid, Barcellona, City, Bayern Monaco, chi sta cercando rabbio. Oggi questa è la storia, oggi questa è la verità. E lo ripeto ancora una volta, questo è il calcio dei procuratori, questo è il calcio dei genitori. Dei genitori che sono in cerca di denaro facile, chiedendo a società come la Juve. Beh, queste commissioni strane, è un po' come la buon'uscita di McKenna. Io vado alla Stoneville, ma voglio la buon'uscita. La mamma di rabbio, aspettiamo la fine del contratto, così sia uno svingolato. La Juve è come se ti ricompra, ti ricompra, e noi chiediamo la commissione, e la Juve è scema. Che giustamente non solo ti freghi i soldi del contratto, magari la commissione, ragazzi, la Juventus infatti. Quindi, spero che sono stato chiaro, chiarissimo, perdonatemi la mia dialettica, ma conta poco la dialettica oggi. Oggi conta parlare di calcio, insieme. La Juve punta tutto su Kefren Turam. Cioè vuol dire che la Juve ha fatto capire, la famiglia rabbiò, accomodatevi fuori casa. Andatevene a casa vostra, noi abbiamo già il sostituto, e la Juve risparmia soldi. Perché la Juve offre un contratto a Kefren Turam di 3 milioni di euro, e non di 7,5 come rabbiò. La Juve risparmia soldi, si mette in casa un vendenne, con prospettiva, un domani, di poter venderlo, con un prezzo dove la Juve, possibilmente, ci guadagna. Perché ragazzi, oggi il calcio è anche questo, non nascondiamoci. Ma tu vuoi venire a fregare la Juventus, se non esiste proprio carissima mamma di rabbiò. Di rabbiò. E no, cara mia, o tu firmi prima che finisci l'europeo, o tuo figlio si accomoda fuori. Le porte la Juve, sicuramente le tiene sempre aperte la Juve. Perché c'è differenza tra la Juve e la mia opinione, che siamo chiari ragazzi. Perché io lo voglio ripetere ancora una volta, per chi non l'ha capito. Io sono un opinionista, un difoso. Da la mia opinione, io do la mia opinione. La mia opinione qual è? Che già rabbiò l'avrei cacciato. Gli avrei detto, senti rabbiò, a me di te non me ne frega niente. Anzi, vi dico di più. L'avrei già bloccato sul telefono. Già l'avrei bloccato. Gli avrei detto, a me di te non me ne frega niente. Chi sei? Boh, basta, blocco la mamma, blocco il figlio. Gli mando un solo messaggio. Gli mando un messaggio, gli mando un vecchio sms, dove gli scrivo Vieni a prenderti la tua roba dall'armadietto. Boh. Rinnovo non ce ne, non siamo più interessati a te. Vattene a zero, via, non ce ne frega niente. Ti uramme, vai. Io farei così. Però io non sono la Juventus. La Juventus sicuramente ha dei modi molto più morbidi, ma posso dirvi che la Juve è cambiata. Posso dirvi che se s'arrabbia veramente il nostro Cristiano Giuttoli, e allora sono veramente volatili per diabetici. E sapete a cosa mi riferisco. E allora, lo ripeto ancora una volta, carissima mamma mia di Rabiot, vai alla Maison, che noi abbiamo pronto il nostro tiuramme. Il nostro perché è nostro? Perché, ragazzi, la famiglia tiuramme, ricordiamoci che è bianconera. Un figlio, purtroppo, è venuto un po' così, che salta, e canta contro la Juve, ma già prende le sberle da papà. E il papà, per farsi perdonare, farà di tutto per far arrivare Kefren tiuramme nella Juventus, perché la Juve ora punta tutto su di lui. Se questo video è stato di vostro gradimento, like, commento, perché vuoi sapere la vostra opinione sulla mamma di Rabiot, fatemi sapere. Iscrizione al canale, perché è sempre grato, e sono sempre qui a regalarvi la mia opinione, vi regalo il mio tempo, e voi mi regalate l'iscrizione che è gratuita. Fino alla fine, forza Juventus, e me ne va io, o sabine di gattuti picciotti, ciao! Ciao!